Ecco, questo è un altro quadro che un altro racconta anche lui, questo era un mio carissimo amico, che era un grosso setaiolo di Como, che quando è scoppiata la guerra, io ho avuto un'interruzione, per fortuna ho avuto un'interruzione, e sono corso da lui in Brianza, lui mi ha ospitato e mi ha dato lo studio e ho lavorato, ho fatto anche una mostra da dentro da lì e cose. Allora ho fatto un ritratto di lui, che era un uomo di un'intelligenza eccezionale, perché ho messo nel 300, perché il tessuto e la componente della civiltà è venuta nel 200-300, il paludamento dava le classi, insomma, dava tutta la struttura. e lui lo ha messo in questo telaio e flippo attraverso il suo corpo, ispirandosi a quelli che sono gli elementi più belli della natura, e crea il tessuto. In questo mondo trecentesco, dove io sono lì a difendere la sua cosa, in questo paesaggio veneto, e lui ha creato i tessuti. Grazie mille.